Secondo giorno consecutivo di riposo per il Catania che si prepara ad affrontare una delle partite più importanti della stagione anche dal punto di vista psicologico. Da domani infatti i rossazzurri saranno nuovamente in campo a Torre del Grifo per iniziare a lavorare in vista del big match di lunedì sera contro il Trapani, nel quale l'imperativo di vincere non potrà essere tradito in alcun modo. Le chance di recupero del Catania nei confronti del Lecce sono ridotte all'osso e quindi bisognerà conquistare a tutti i costi l'intera posta in palio, stessa esigenza della squadra di Calori che però accusa un ritardo più importante e quindi ha sicuramente meno possibilità dei rossazzurri. Gli uomini di Lucarelli hanno quindi innanzitutto la necessità di portarsi almeno uno dal Lecce, aspettando poi un passo falso dei Salentini nelle ultime due giornate. In ogni caso se si battesse il Trapani si dovrebbe fare lo stesso anche a Matera e all'ultima giornata in casa contro il Rende, ma è chiaro che battere i Granata darebbe una grossa mano soprattutto sul piano morale. Lucarelli dovrà pensare alla formazione da schierare che certamente scenderà in campo con il 4-3-3 e probabilmente tornerà nella versione tipo con Aia al posto di Esposito e Marchese per Porcino.